Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita dura, sicuramente non abbiamo iniziato bene, con un roster corto, delle assenze pesanti e non deve essere però una scusa, sicuramente ci sono tante cose su cui dobbiamo migliorare, nel secondo tempo e anche nel terzo tempo abbiamo giocato bene, sicuramente loro hanno sfruttato le loro opportunità meglio di noi e domani bisogna vincere.